1998, Vergato. Il gruppo Cavalieri del Reno riprova con tanta buona volontà, ma soprattutto tanta passione, ad organizzare il secondo raduno del cavallo a Vergato. E grazie alla collaborazione e alla disponibilità del tirassegno di Vergato, che si propone di mettere a disposizione, oltre che alla rilevante struttura, anche tutta la disponibilità del suo personale, nei giorni 1, 2 e 3 maggio si è svolto il secondo raduno del cavallo a Vergato. Un raduno che doveva rispecchiare in qualche modo quello dell'anno precedente, che ci ha dato tantissime soddisfazioni, ma che ancora di più ha soddisfatto i partecipanti venuti un po' da tutte le parti della zona e anche da fuori provincia. Quest'anno però dovevamo dare di più e ci abbiamo provato cercando di offrire un programma ricco di emozioni e novità. Credetemi, l'unica cosa che ci è stato un po' stile è stata la stagione che ha frenato leggermente le partenze per il raduno. Ma cerchiamo di entrare nel vivo della manifestazione. Quest'anno il programma ha previsto un emozionante trekking di due giorni, che ha visto la sua partenza dal tiro a segno di Vergato e, adentrandosi nei boschi degli apennini toschemigliani, i partecipanti al trekking potevano godersi, insieme ai propri amici cavalli, innumerevoli sentieri ombreggiati e molto caratteristici. Dopo una passeggiata di circa quattro ore, il trekking giunge alla sua tappa serale, presso un antico casale molto suggestivo, in località Stella Matutina, a cui si riferiscono queste prime immagini. Dopo aver sistemato a dovere i cavalli e data loro una buona e meritata razione di biade fieno, i cavalieri si sono ritrovati intorno al tavolo, davanti ad un'ottima cena preparata e servita gentilmente dai custodi e gestori dell'antico casale. La serata si è poi conclusa davanti ad un caldo fuoco, acceso per l'occasione, ed un buon bicchiere di vin brulè. Al sorgere del sole, i sacchi a pelo erano già ripiegati e i cavalli, già sellati, pronti a ripartire e proseguire il trekking. Trekking che, costeggiando dall'alto tutta la vallata vergatese, giunge in località Ipra di Cereglio, per fare la seconda sosta e naturalmente rifocillarsi, gustandosi un buon piatto di pasta ed un buon bicchiere di vino. Dopo essersi rifocillati, si rimonta in sella e si riparte lunghi sentieri per raggiungere con molta soddisfazione da parte di tutti, per i due giorni trascorsi, il tiro a segno di vergato. Devo ammettere che l'arrivo del trekking segnava sopra il viso dei partecipanti una certa ombra di stanchezza, che però veniva illuminata da un'evidente certezza di aver vissuto due giorni all'insegna della natura ed aver potuto condividere questa emozione con la compagnia del nostro amico cavallo. La giornata di sabato si è poi conclusa dopo essersi abbuffati a dovere ed aver scatenato tutta la forza rimasta in esuberanti balli a suon di musica. Infine, il giorno di chiusura del secondo raduno di vergato doveva essere qualcosa che lasciasse il segno e il segno l'ha lasciato soprattutto negli occhi della gente che ha ammirato nel centro della piazza dei capitani di vergato un'esibizione equestre di alta scuola spagnola presentata da Rossano Ranch e contornata da uno spettacolo di ballo e musica country. Credetemi, vedere questo splendido cavallo andaluso danzare a tempo di musica seguendo dei passi e dei movimenti impartitogli dal suo istruttore è una cosa che fa venire i brividi. Al termine dello spettacolo è stato servito l'aperitivo ai cavalieri intervenuti e da tutto il pubblico che ha partecipato alla manifestazione. Il secondo raduno del cavallo di vergato è giunto al termine ma la soddisfazione dentro di noi era immensa. Anche quest'anno la manifestazione ha avuto un successo isperato e quelle poche gocce d'acqua cadute dal cielo sembravano far parte del gioco. A tutti, da parte del gruppo I Cavalieri del Reno, un vivo ringraziamento e arrivederci all'anno prossimo.